Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, come state ragazzi? Spero che siate bene, spero che adesso riuscirò a far uscire i video regolarmente come facevo prima, ovviamente ragazzi sappiamo che è finito il calciomercato, però ovviamente devo essere più costante per motivi salute e cose scolastici, non sono potuto essere costante, spero da oggi di ricominciare e come cominciare nel migliore dei modi se non con un video sul fantacalcio ragazzi? Ovviamente ragazzi vedete questa è una lampadina, mi piace troppo bella, ragazzi parliamo della mia giornata al fantacalcio, ovviamente ragazzi prima di partire col video vi chiedo di lasciare un mi piace, di iscrivervi al canale, che debba arrivare ai 300 iscritti e di attivare la campanellina così rimanete sempre aggiornati su tutti i miei contenuti, allora ragazzi io direi di partire piano piano, io ovviamente adesso prendo subito qui la giornata, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho qui Allora ragazzi io giocavo contro un ragazzo che in questo momento è praticamente l'ultimo in classifica, quindi ho giocato contro l'ultimo, ero favorito Però ragazzi adesso andiamo a leggere la partita, la giornata Allora lui parte, lui gioca con un 3-4-3, il mio stesso modulo, gioca con Montipò in porta, Montipò del Verona 8, era 7, non prende voli, prende 8 Koulibaly ragazzi, Koulibaly 7, ne avrai 5 Terzo e ultimo difensore titolare aveva Isai ragazzi, non gli gioca, gli entra Di Lorenzo che gli prende 5 e mezzo Centrocampo con Frattesi che gli prende 6 Perisic che gli prende 6 e mezzo Olivera che gli prende 6 Mkhitaryan che gli prende 6 Trio d'attacco ragazzi con Caputo 5 e mezzo Beto 6 Raffaeleao 7, gol prende 10 Lui ragazzi conclude con un totale di 71 punti e mezzo 71 punti e mezzo vuol dire che non ha fatto il secondo gol per mezzo punto ragazzi Quindi molto sfortunato qui Adesso ragazzi vado a dire con cui ho giocato io ragazzi Adesso vi dico un momento in cui c'è stato C'è un momento nel Fantaga 5 Adesso mi ammazzo probabilmente Perché ragazzi sapevo Adesso vi dico cosa è successo la settimana scorsa Non ho portato il video Ma ve lo dico subito Andiamo nella partita precedente Eccolo qui la giornata precedente Sì eccolo qua Nella scorsa giornata ragazzi Io avevo pareggiato contro un ragazzo L'avevo fatto 75 e mezzo Io 72 e mezzo Però ragazzi cosa c'è stato? Che è? Mamma mia Non avevo messo Ichiru Ichiru Stavo parlando ragazzi nel derby Ho detto vabbè non lo metto dai 14 mi ha preso 14 Io ho messo Ho messo titolari Brecalo 5 e mezzo Zapata 6 e mezzo Zapata che si è rotto ragazzi Non ce lo possiamo scordare Però se avessi messo Ichiru L'avrei vinto Ma siccome la mia vita è Quello che è Quindi che è successo? Esatto ci sarà una cosa simile Anche in questa giornata Ma partiamo con ordine Allora Ma gli anni importa Prendeva 6 e mezzo Porta inviolata Più assist Mi prende 8 e mezzo Dunfris 6 e mezzo Rachmani 6 Ikei 5 e mezzo Bandinelli Mi prende 6 Zaccagni ragazzi Da 8 mi prende 14 Per i due gol Incredibile Zaccagni Popeca 6 Che si 6 C'è un centrocampo che è veramente A parte Zaccagni ragazzi Devo dire tante gioie Delofeu 6 e mezzo Giru 6 Gonzales 7 Adesso vi dico ragazzi Quanto ho fatto Però ragazzi C'è stato un problema Perché io Cioè Tra gli undici titolari Quello che mi giocava per ultimo Era Nico Gonzales Nico Gonzales Mi doveva prendere Mi doveva prendere Aspettate Sì Mi doveva prendere 7 Per io fare il punto Perché se non mi avesse preso 7 Ragazzi Non se n'è arrivato Alla soia del gol Ho detto Vabbè con lo Spezia Mi prende 7 Ragazzi Per fortuna Per fortuna Però ragazzi Qual è il problema Che è Prima che giocassi la Fiorentina Mi stavo mangiando le dita Perché che è successo Ho deciso di mettere Giru Titolare Questa giornata Che è passata Cioè Ieri No l'altro ieri Perché ho detto Vabbè Giru Dai contro l'Inter Ha fatto doppietta No mi prende 6 E tengo in banchina Brecalo del Torino Che era comunque Il primo sostituto In caso di In caso appunto Per alternare Un'attaccata Se non avessi giocato Ovviamente Non mi entra Brecalo Mi prende 10 Non mi entra Perché tutti i miei Tre attaccati titolari Hanno giocato E io ragazzi Ho detto Che se il Gonzales Mi avessero messo 7 E gli avevo messo Giro Ragazzi Io penso che Non lo so Mi spaccavo la testa Da qualche parte Fatto sta ragazzi Che il mio avversario Finisce con un totale Di punti Di 71 e mezzo Quindi per mezzo punto Non avrebbe Non ha appunto Non ha raggiunto Il secondo gol Ma non sarebbe servito Ragazzi Perché io Col 7 di contro Sono arrivato A 78 Quindi ragazzi La giornata In feda Con un totale Con un punteggio Feminale Di 3 a 1 Per me Che succede ragazzi Negli scorsi video Vi ho detto Che il secondo posto Era abbastanza recuperabile Perché era A meno 4 punti Il primo ragazzi È Imprendibile Che succede ragazzi In questa giornata Lui ha perso punti Se non mi sbaglio Ha fatto un pareggio Questa giornata ragazzi Perde 2 a 0 Perde 2 a 0 Ragazzi Contro il penultimo In classifica Attenzione Contro ragazzi Il penultimo In classifica E adesso ragazzi Vi recito La classifica Perché il primo ragazzi È 52 punti La vedo abbastanza Impossibile Come cosa Però ragazzi Io in questo momento Sono secondo A 41 A meno 11 Ragazzi Non ci arriverò mai Primo Però sono a pari punti Col terzo A 41 Quindi ragazzi In questa giornata Che è successo Perché se mi sbaglio È 3 giornate O 2 giornate Che non importo Il video sul fantacalcio Che Mi ha pareggiata una E questa l'ha persa Ragazzi Quindi noi Da meno 4 Siamo esattamente A pari punti E la prossima giornata È proprio contro È proprio contro Il terzo In classifica Quindi concentrati Ho già messo la formazione 3 giorni prima Ragazzi Ma ovviamente Poi l'andrò a cambiare Comunque ragazzi Molto sfortunato Perché Gli ultimi risultati Sono stati Ho vinto 3 a 1 Ancora prima 2 a 2 E poi ho perso 1 a 2 2 a 1 E 3 a 2 Sempre di un gol Ragazzi Sempre per veramente Pochissimo Perché Una 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 L'ho persa A 76 punti Quindi per due punti Ragazzi Non l'ho pareggiata L'altra a 68 Ma l'altro Era arrivato a 72 Così Quindi ragazzi Devo dire un po' di sfortuna Per fortuna ragazzi Ci siamo rifatti In questo partito Ho fatto un pareggio È una vittoria Che ci portano Al secondo posto A pari punti Con il terzo Dico secondo ragazzi Perché abbiamo Cioè Noi abbiamo detto Nel nostro fantacalcio Che è In caso di pari punti E Punti nel senso Di calendario Poi si contano i punti totali Che tu fai ogni giornata No Tu fai 70 punti Un'altra giornata Ne fai 60 E li sommiamo In questo momento Io ho fatto 1830 punti Lui 1829 Quindi di un punto Io sono sopra Ma mentre ragazzi Ancora il campionato È lunghissimo Il fantacalcio è lunghissimo Il primo ragazzi Per quanto C'è ancora tanto tempo Ma La vedo leggermente Difficile da recuperare Ovviamente noi Per il secondo posto Ce la lottiamo ancora Alla grande Dobbiamo stare lì Ragazzi Non dobbiamo più sbagliare Ovviamente ragazzi Uscirà un video Anche Sulla squadra Che ho messo Al fantacalcio Non so se uscirà Oggi O un altro giorno Uscirà anche un video Facendo il recap Della classifica E del pensiero Comunque che ho Sulle squadre Che stanno comunque Nelle zone alte Di classifica Ovviamente ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Spero ragazzi Di tornare il più costante Possibile Forse anche più di prima Perché ragazzi Ci tengo Ovviamente Fatemi sentire Tutto il vostro sostegno Supporto Con un mi piace Iscrivetevi al canale Ragazzi Perché dobbiamo arrivare 300 iscritti Attivate la campanellina E ci vediamo In un prossimo video Bella Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti